Oh, ciao! E questa chi è? Non è la stessa di ieri! Hai fatto un altro, eh? Mi fai schifo! Sì, il film sono andato a vederlo, però non mi è piaciuto molto, cioè non ha... Ok, 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 ok... Oh, ciao, Anna! Ci sei anche tu qua? Ciao! Oh, Piero, mi devi ammorso! Oh, cosa c'è? Oh, sei un amico! Ti accompagno per prima? Comunque ieri me le sono fatte due insieme! Non ci crederò mai! No, davvero? C'ho anche i filmati sul telefono! Sì, vediamo! Dai, c'è tipo il telefono e scarico a casa! Però te lo giuro sulla vita di Mirko! Mirko, no, no, stavo scherzando, stavo scherzando! Me ne sono fatta solo una! Sì, no, mi bruciarono il fatto di essere stato a casa ieri! Oh, Gabriele, stasera si esce! No, io resto a casa! Dai, che ti porto in discoteca! No, no, io resto a casa! Oh, Gabriele, con sta depressione! Ma da quel paese, va! No, davvero, io resto a casa! Oh, Nico, hai una gomma! Sì, ma non dire che te l'ho data io, eh! Shhh! Che fai? Mastica lentamente, puoi farci scoprire! Oh, gatto, sai che a me queste cose non mi interessano! Comunque Guglielmo mi ha detto che il fratello di Marco ha avuto un figlio con Paola! No, ma neanche a me interessano queste cose! Ma come lo chiamano alla fine? Quest'anno schifo, perché io ti dico proprio che... Questa è proprio mafia! Stifo, proprio tanto sto... Puzzi! Oh, Piero, mi fa un favore? Mi dai la sigaretta, per favore? La sigaretta... Grazie! Sì, Piero, è come l'acceno! L'accendino, per favore! Dai, da tre minuti! Piero! No, scusi, siamo una trentina là! Non è che mi dai direttamente tutto il pacchetto? Ti piace la banana, eh? Cioè, ma tu trovi del porno ovunque! Sì, chi è? Mirko, per cortesia, ci muoviamo a scendere! Grazie! Ehm, metto il giubbotto da scendo! Che saranno mai due uberità! 3 2 1 3 2 1 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 8 8 9 9 10 10 12 10 12 12 13 14 15 15 15 15 16 15 16 16 16 17 17 17 20 20 21 20